Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe, ci ritroviamo su Dissidia Final Fantasy Opera Omnia versione giapponese oggi perché parliamo appunto dei nuovi aggiornamenti che sono stati effettuati all'interno del gioco ma soprattutto parliamo dell'introduzione del nuovo Lost Chapter di Lulu con la relativa uscita dell'arma EX Plus insieme a lei in banner abbiamo Jekt dove l'anno scorso praticamente abbiamo introdotto la sua arma EX mentre invece adesso abbiamo l'introduzione dell'arma di Lulu con EX Plus e Jekt invece dove si evolve appunto anch'esso in EX Plus se andiamo a vedere tra le info, ovviamente vi faccio vedere il tutto, vi faccio vedere che c'è stata una manutenzione che ovviamente è l'introduzione dei nuovi personaggi, delle nuove meccaniche eccetera eccetera e ovviamente la compensazione di 100 gemme che ci viene data ogni qual volta viene effettuata la manutenzione nuovo banner che è uscito oggi per l'appunto con la EX nuova di Lulu e la EX di Jekt entrambi come potete notare in versione Plus e poi ovviamente anche WAK in Featured perché appunto questo è un banner esclusivo tutto Final Fantasy X successivamente la notizia dove si vede il Lost Chapter di Lulu quindi per chi non ha avuto la possibilità di poterla reclutare adesso può può anche ottenere la 15 e l'armatura 35 CP qualora non l'avesse ottenuta durante l'evento quindi classica formazione per quanto riguarda i Lost Chapter e barra eventi ma la notizia più succosa arriva praticamente così dal nulla dove viene annunciato che il giorno 13 di giugno sarà aggiunta l'ottava Chaos quindi nuova Chaos che viene inserita all'interno del gioco non so se ci sarà in questo momento o soprattutto grazie a questa Chaos il declassamento quindi non so se effettivamente dal mio rank Platino possa ritornare effettivamente rank Oro fino a quando ovviamente non completerò anche quest'ultima Chaos solo che fortunatamente per questa Chaos arrivo decisamente più preparato perché comunque possiedo Yuri possiedo anche un altro personaggio che posso già subito fare Viola perché comunque ho i materiali praticamente pronti e quindi in base alla Chaos che avrò di fronte sicuramente o porterò Golbez Viola o porterò 8 a Viola molto probabilmente la mia scelta sarà su 8 dato che comunque con la sua Evasion riesce ad essere veramente veramente buono avrei anche Rosa che effettivamente dovrei portare assolutamente a Viola però le risorse sono decisamente scadenti sono molto molto scarse che cosa facciamo oggi? oggi innanzitutto successivamente non so se riesco oggi effettivamente a registrare tutto quello che rappresenta Lulu cioè il suo Lost Chapter, la Chaos eccetera eccetera perché oggi comincia la fiera nella mia città comincia l'Etna Comics io ovviamente sarò presente per tutti e quattro i giorni all'interno della fiera perché appunto sono un abbonato e quindi sarò praticamente tutto il giorno fuori e probabilmente non avrò neanche il tempo di poter registrare effettivamente le cose cioè se le riesco a registrare probabilmente sarà la sera prima di andarmi a coricare perché poi il giorno dopo ovviamente mi devo svegliare e andare appunto in fiera comunque questo video diciamo che adesso lo spezzetterò anche perché sto facendo una piccola introduzione adesso ci andiamo a pullare i ticket perché ho un paio di ticket che devono essere pullati e li pullo all'interno della batch dato che comunque Lulu la possiedo praticamente completa già ho 15,35 di Lulu trovare la sua ex potrebbe essere un investimento quindi magari se riesco ad avere fortuna con i ticket perché no? Non spenderò gemme perché per me è un banner totalmente da schippare secondo me Jekt è stato reso davvero interessante dato che la sua meteora adesso addirittura fa 4 hit più 2 hit HP quindi la ex plus di Jekt diventa davvero davvero ottima Lulu invece fa delle hit però il danno viene splittato quindi non è una OE 100% ed è questo che effettivamente mi frena dal effettivamente pullare su di lei fa pur sempre 5 hit nella sua versione plus quindi diciamo che anche lei è molto molto decente però dato che sono appunto danni splittati non so effettivamente quanto possa far comodo certo con gli avversari con molteplici avversari diventa sicuramente eccezionale perché riesce a caricare molto più Brave riesce a caricare molto più Overflow dato che arriva fino al 120% però con i singoli target purtroppo mi va a perdere qualche cosina comunque vedremo magari vedendola utilizzata in giro soprattutto io vedendola utilizzata in giro magari qualcuno che la trova la maxa e la fa vedere alla community probabilmente vedremo cosa ci riserva questo nuovo personaggio allora andiamo verso il banner che come potete vedere è questo quindi Jekt, Lulu, X plus entrambi e Waka ovviamente con 15 e 35 in feature con si pensa il rate up di questi personaggi anche se poi gli off banner sono sempre una garanzia allora ho 18 ticket non sono tantissimi però ci proviamo ragazzi ci proviamo anche perché ripeto Lulu la possiedo completa quindi oddio ah ecco già off banner quindi cominciamo con un off banner però è sempre una oro quindi power stone che sinceramente non si butta via e quindi stavo dicendo attenzione cosa sta succedendo vabbè questo è un trollino dai no ah vabbè ok pensavo pensavo peggio 35 no 15 di Lulu che comunque io già possiedo quindi non mi interessa più di tanto stavo dicendo che comunque il banner di per sé per me è un completo skip quindi ragazzi io lo lascio perdere però ah da che qua cioè ma che sta succedendo 3 ticket 3 oro 15 di seed tra l'altro un altro off banner così cioè giusto per rendersi conto di di quanto facciamo schifo però 3 oro che comunque sinceramente sono 3 power stone in 3 ticket non direi un'ottima media stavo dicendo appunto che per me il banner comunque è uno skip perché non ce l'ho non ce l'ho non ho nulla di jack quindi non vorrei effettivamente costruirmelo da zero perché sarebbe un parto oddio non ci credo la ex di lulu la ex di lulu in 5 ticket cioè io ho tentato così ragazzi a caso vi ripeto ho tentato a caso e ho trovato la ex di lulu no vabbè io non so cosa dire ragazzi veramente non ho parole non ho parole cioè per me il banner si chiude qua per me il banner si può chiudere qua non ho altro da pullare non ho assolutamente altro da pullare fighissimo 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 ragazzi niente faccio gli screen perché devo fare gli screen però va bene va bene va benissimo va assolutamente bene va bene va bene continuo ormai perché il banner mi sta girando bene quindi devo dire che cioè sto avendo soddisfazione quindi magari trovo qualche altra oro per avere powerstone che è una cosa che sinceramente non mi farebbe schifo visto che comunque le powerstone siano sempre calanti all'interno del mio account però trovare la ex di lulu in in 5 ticket quanti ticket erano non ci sto facendo caso cioè proprio così però va bene va bene va bene va bene dai che ci posso fare ottimo ottimo già immagino le reazioni e gli insulti che posso beccare però vabbè ovviamente dai ragazzi di discord sto parlando dato che ormai abbiamo un gruppo abbastanza affiatato quindi vi invito veramente se avete se avete il gioco se giocate sia la versione global che la versione jump vi invito ad entrare su discord perché veramente ormai si è creata una vera e propria famigliola all'interno di di quel discord riusciamo a scherzare tra di noi siamo sempre in compagnia se ci sono se ci sono difficoltà se c'è bisogno cerchiamo sempre di aiutarci gli uni con gli altri e quindi direi che tanta roba beh lulu effettivamente mi fa piacere di aver trovato la ex anche perché ripeto io lei ce l'ho completa ce l'ho già con 15 e 35 per cui avere anche la ex mi può andar bene mi può andare assolutamente bene non so se ho le powerstone a dire la verità adesso per maxarla perché a questo punto mi sa che non ho le powerstone per maxarla purtroppo però sono contento di aver trovato lulu e non aver trovato jacked a dire la verità perché jacked non ho nulla quindi avrei dovuto costruirmelo da zero e costruirmelo da zero ora come ora sarebbe stato un parto quindi preferisco lulu dove devo maxare solo la ex visto che già le altre armi le ho maxate quando era uscito il vecchio banner quindi sono assolutamente tranquillo ultimo ticket che vediamo in che cosa si trasforma ecco un bel bronzino buttato così terribilmente in faccia andiamo a vedere la mia situazione a questo punto di powerstone eccetera eccetera allora ho 5 powerstone a dire la verità più quelle che dovrei vendere che sono questa questa e questa farebbero in totale 8 powerstone farebbero 8 powerstone quindi diciamo due due slottini tecnicamente quindi due due limit break su cioè due limit break su tre le altre armi ovviamente potrei togliermi queste altre armi però la ex di di dark cecil non voglio toglierla ovviamente dato che è un ex che mi manca la 15 di irvine a dire il vero devo maxarla perché devo maxare anche irvine la 35 di quistis volevo tenerla perché anche essa volevo maxarla poi ho la 35 di faris buttata lì così senza pallini senza niente se non erro si infatti senza senza nulla quindi diciamo che tecnicamente sarebbero 3 powerstone più voglio vedere effettivamente se ho quella settimanale da poter prendere ma anche se anche se credo che ancora cioè credo di averla già presa però quindi non non dovrei averla non dovrei averla a disposizione tramite dissidia point poi non so se mi sbaglio si infatti non ce l'ho disponibile quindi non posso assolutamente prenderla e quindi niente sono praticamente bloccato senza le powerstone ora la cosa brutta che io già sto pensando è il fatto che devo fare le mastery anche a lulu stavo iniziando a farle ad onion visto che comunque anche onion ce l'ho completo quindi stavo iniziando a fare le mastery anche lui adesso purtroppo le devo mettere in mezzo anche lulu e quindi e quindi la situazione è questa ho 8 powerstone purtroppo me ne servirebbero altre 4 che al momento non ho quindi non posso assolutamente maxarla se dovessi magari trovare qualche ticket giustamente con le mastery che devo farmare magari qualche qualche altro ticket lo butto giusto per tentare aspettate fatemi vedere se c'è il banner fatemi vedere se c'è ancora il banner di rinoa no non c'è più il banner di rinoa ovviamente anche io sa che cosa vado a pensare perché se ci fosse stato il banner di rinoa ovviamente avrei pullato la nella speranza di ottenere le armi di le armi di rvine quindi almeno con la scusa sarei riuscito a maxare anche lui va bene ragazzi questo video lo faccio finire qua per ora dato che abbiamo avuto un bellissimo risultato ex di lulu su 5 ticket praticamente quindi tantissima roba spero che anche voi possiate essere così fortunati se la state cercando e per il resto io direi che è tutto se riesco a registrare le cosmos le caos di lulu e le porto già sul canale magari per farvele vedere oggi pomeriggio le programmo per oggi pomeriggio vediamo un po' cosa riesco a fare e per il resto alla prossima e per la prossima